la n non può che essere sinonimo di noduli sono anche molto in aumento sono in aumento sono più diagnosticati e poi perché si declinano al femminile dunque sono in aumento non lo sappiamo se sono realmente in aumento quello che certamente sappiamo è che ne troviamo di più molti di più se siano realmente in aumento questo non lo possiamo dire certamente ne troviamo di più perché li andiamo a cercare di più oggi c'è un maggior utilizzo dell'ecografia quindi riusciamo anche spesso per iniziative di screening nella popolazione quindi diciamo c'è una particolare attenzione anche dopo Chernobyl c'è stata una particolare attenzione verso la tiroide quindi è aumentato il numero di ecografie eseguite e quindi è aumentato il numero di ghiandole che contengono dei noduli c'è da dire che i noduli sono estremamente frequenti nella popolazione soprattutto femminile diciamo 8 a 1 9 a 1 il rapporto tra maschi e femmine e la presenza di nodi il rischio di avere dei nodi aumenta l'aumentare dell'età quindi è relativamente decisamente basso nei bambini o nei giovanissimi diciamo nella terza decada di vita comincia a aumentare il rischio di averne diciamo dopo i 50 anni il rischio di averne è molto più alto parliamo del 20-30% se non di più dopo i 70 anni probabilmente il 50% quindi estremamente frequente una volta che viene individuato e descritto un nodo ovviamente scatta una serie di meccanismi sia di agitazione nel paziente perché è innegabile dirlo sia una serie di indagini eventualmente ulteriori che è necessario fare in questo caso una cosa importante sono le misure del nodo molto semplicemente in genere i nodi di dimensioni inferiori al centimetro nella stragrande maggioranza dei casi a meno che non ci siano proprio delle caratteristiche ecografiche sospette l'indicazione è quella di fare un follow up un controllo a distanza quindi dopo sei mesi dopo dodici mesi si fanno dei controlli e si valuta se il nodo cresce o se rimane invariato se invece le dimensioni sono superiori al centimetro soprattutto se in presenza poi di caratteristiche sospette ecografiche è consigliabile invece fare un passo successivo dal punto di vista diagnostico che è l'ago aspirato tiroideo quindi una manovra diciamo mini invasiva non possiamo neanche considerarla invasiva perché si utilizzano aghi sottilissimi ed è quasi in dolore che permette di fare un esame citologico della lesione vale dire consente di aspirare una piccola quantità di contenuto del nodo e di strisciarlo su un vetrino colorarlo ed esaminarlo al microscopio quindi dalle caratteristiche delle cellule il citologo è il grado di stabilire se il nodo è benigno oppure se è meglio asportarlo perché è un carcinoma e di strisciarlo su un vetrino